Ciao, una cosa che capita spesso con personaggi cartoon è quella di volergli cambiare le espressioni ma non con dei semplici scala e ruota che sono tutti, oppure con dei bone, che sono tutti metodi che abbiamo visto finora, ma proprio di cambiarli con dei disegni di tipo diverso. In tal caso dobbiamo suddividere nel nostro disegno i pezzi in layer diversi. Ammettiamo di volergli cambiare gli occhi da così a ogni tanto con forme diverse. Dobbiamo separarli, quindi seleziono i due occhi e posso usare M che serve a spostarli in un nuovo layer o in uno esistente, non ce l'ho e quindi creo un altro layer e lo chiamo occhi chiusi linee e quindi vedete ho gli occhi separati, comunque hanno il loro weight e quindi continuano a muoversi senza problemi con il volto. Abbasso un po' l'opacità per poter sapere dove sono e disegnare un altro layer, quindi per esempio con occhi aperti e faccio di nuovo linee. Vado in draw mode e mi assicuro anche di, sblocco un attimo, di selezionare il vertex group del volto e di premere il tasto del weight data in maniera tale che quello che disegno venga associato al volto. Adesso con ink pen e il materiale delle linee disegno l'occhio aperto, vado in edit mode e lo duplico per metterlo di là. Assicuriamoci che si muovano insieme a tutto quanto, sono un po' piccolini e in edit mode li aggiusto, vado sempre nel primo fotogramma. Adesso mi serve un altro livello, occhi aperti, colore perché dovrò disegnare, prendo corpo chiaro e disegno l'interno dell'occhio, per semplicità ho usato lo stesso materiale, in modo tale che abbia anche l'interno degli occhi. Adesso come vedete con l'opacità io posso abbassare l'opacità o anche usare l'occhietto per visualizzare o un paio di occhi o l'altro. Adesso io volendo potrei animare questo valore di opacità nel momento in cui voglio nascondere un occhio e visualizzare quell'altro. Non è così pratico, sarebbe più carino averlo all'interno del rig. Allora possiamo utilizzare diciamo dei trucchi per riuscire a metterlo all'interno del rig. Vado in edit mode nel mio rig e creo, magari metto il cursore al centro diciamo dell'oggetto e creo un nuovo bone e lo sposto in una posizione un po' più comoda. Allora potremmo pensare di usare una specie di interruttore che mi sposta la visualizzazione da uno all'altro. Quindi se questo è un bone che ha un inizio e una fine, di nuovo facciamo ottaedro, posso pensare di usare un suo bone figlio, estrudo un bone figlio più piccolo. Adesso questo qui se vado in post mode è figlio però è collegato. Io lo voglio staccare e quindi faccio split e poi ricreo il parenting con keep offset. Quindi adesso in pratica questo ha come figlio questo ma questo può muoversi dove vuole. Io posso bloccarlo. Allora con z si muove avanti indietro, con y si muove lì, con la x si muove su e giù. Quindi io blocco tutto tranne il movimento sull'asse x. E il movimento sull'asse x quando è 0 si trova lì, quando è 1 si trova laggiù perché è relativo al padre. Quindi io posso anche usare questi due valori 0 e 1 per comandare la visualizzazione di quest'altro. Quindi questo potrei chiamarlo occhi switch. E come tutti i bone posso dargli dei constraint e quindi per esempio intanto di sicuro gli metto un limite alla location x che può andare solo da 0 a 1 in modo tale che lo scelgo in local space. Quindi adesso quando lo sposto con la g lui può andare solo da 0 a 1 ed è bloccato grazie a questo limite. Ora la sua posizione sull'asse x io la posso copiare diciamo come driver copy as new driver. Tutte queste cose le trovate nel mio corso di rigging che ho fatto per l'associazione Blender Italia su come usare i driver e tutte queste cose. Vi consiglio appunto di approfondire il rigging in Blender. E adesso quindi che ho questo driver copiato posso tornare nel mio oggetto grease pencil nei layer. Questo è l'opacità degli occhi per esempio aperti e se qua faccio paste driver adesso questa opacità è associata appunto a quel driver. Se lo faccio anche per il colore paste driver in pratica adesso questo è 0 perché la posizione di questo bone è 0. Lo faccio anche con gli occhi chiusi ma adesso su uno dei due lo inverto. Quindi adesso sono spariti tutti perché sono tutti a 0. Ma se io adesso qua faccio edit driver e invece di fare average value faccio scripted expression e invece di location faccio 1 meno location. Allora adesso quando la location è 0 diventa 1 e quando poi lo sposto giù diventa 1 l'altra ma essendo 1 meno 1 è diventata 0 quella degli occhi degli altri occhi e quindi ho creato uno switch tra i due occhi. Ovviamente la location può anche diventare più alta di 1 ma a me non interessa perché in realtà anche se quell'opacità diventasse 2 3 non ha significato e con questo semplice switch ho creato la possibilità di cambiare gli occhi e quindi posso animare questo valore e quindi per esempio adesso fotogramma 60 faccio i di selected bones di nuovo sarà meglio andare a visualizzarli come stick per praticità qui al fotogramma 90 faccio di nuovo i selected bones e un attimo dopo quindi che ne so un fotogramma dopo lo porto a 1 e faccio tanto ho registrato e l'ho registrato e quindi vedete tac apre gli occhi poi li devo anche diciamo cambiare un secondo prima li rimetto a 1 anche qua e quindi vedete apre gli occhi e li richiude apre gli occhi e li richiude ovviamente lascio eventualmente a voi il compito di aggiungere un ulteriore bone per l'occhio aperto magari per riuscire anche ad aprirlo e chiuderlo comunque come al solito la cosa buona adesso è che abbiamo sempre la possibilità di avere tutto su dei livelli su occhi aperti linee non riesco a visualizzare le cose perché ho questo driver non riesco a visualizzare le cose che faccio devo se voglio fare una modifica agli occhi aperti quindi mi devo mettere per forza in una posizione nella quale il rig mi mostra gli occhi però qual è il problema se mi metto in questa posizione e cerco di andare per esempio vado in draw mode perché voglio disegnare prendiamo linee vorrei disegnare delle sopracciglia e il problema è questo che mi crea un fotogramma intanto a 61 con questo sopracciglio e che non è quello che voglio e per di più non è nel posto giusto perché c'è il mio rig che agisce quindi cosa devo fare devo disattivare momentaneamente il funzionamento dell'armature in questo modo e in questo mi permette di vedere il gatto com'è nella realtà e quindi se disegno il sopracciglio finisce al posto giusto dopodiché il fatto è che invece di disegnare la fotogramma 61 io voglio che vada sempre a zero e quindi tiro via il registra e quindi adesso quando disegno viene disegnato sul layer dove l'ho disegnato ma al fotogramma zero e quindi non succede più l'aggiunta del fotogramma quindi in questo modo io posso fare tutte le modifiche perché mi accorgo che non è carino questo bianco degli occhi magari posso creare un nuovo materiale per il bianco degli occhi riparto da questo del cuscino e lo faccio lo chiamo occhi e lo faccio molto chiaro un bianco e vado in edit mode nascondo un po' tutto e vado a selezionare occhi aperti colore 1 e 1 2 e nei miei materiali gli assegno il materiale degli occhi e adesso per esempio posso fare delle altre modifiche per esempio su occhi aperti linee adesso torno in draw mode e anche se sono su linee potrei fare un piccolo puntino di luce l'animazione non funziona perché ho disattivato il rig per cui non devo fare altro che tornare in object mode e riattivare il funzionamento del rig e adesso funziona e quindi a un certo punto il personaggio apre gli occhi e li richiude e grazie a questo switch che ho creato nel rig lascio sempre a voi a farvi eventualmente delle custom shapes e delle cose più comode se ovviamente avessimo 3-4 pezzi degli occhi possiamo usare un metodo simile non con due posizioni 0 e 1 ma con più di una posizione e potete usare 2-3- per riuscire a cambiare gli switch su tutti i vari layer con questo abbiamo aggiunto un altro elemento ancora alla nostra cassetta degli attrezzi tra le cose che possiamo usare per animare il nostro personaggio possiamo anche mettere sempre insieme ogni cosa per esempio disattivo momentaneamente il rig proprio per poter disegnare gli occhi aperti se io uso la tradizionale animazione quindi vado a modificare il layer degli occhi aperti con i metodi che abbiamo visto nella prima lezione quindi quelli di cambiare fotogramma per fotogramma adesso blocco tutti i layer che non sono degli occhi per evitare di toccarli li seleziono, seleziono anche le sopracciglia e scalo per ingrandirli leggermente li ho ingranditi, 1-2-3 fotogrammi dopo li scalo di nuovo più piccolini e quindi ora fanno questo lavoro e poi diciamo che potrei riutilizzare in questo caso vado in Grease Pencil per poter vedere questi fotogrammi prendo il primo e lo duplico in maniera tale che poi tornino normali quindi si allargano, si stringono e poi tornano normali qui in mezzo potrei usare l'interpolazione come avevamo usato per la palla li rimpicciolisco magari ancora un po' qua abbiamo anche aggiunto un'animazione a mano con un paio di fotogrammi il vantaggio di Grease Pencil è proprio questo che possiamo mettere insieme moltissimi metodi di animazione ora qui devo ripristinare il movimento del rig mettendo insieme tutto quello che abbiamo imparato possiamo creare delle animazioni molto molto complesse tenete conto poi che possono esserci anche degli oggetti tridimensionali davvero sulla scena per esempio di uno sfondo più complesso questo possiamo vederlo in una prossima lezione grazie e alla prossima